La mostra itinerante su Giovanni Paolo II, il Papa venuto dall'Est, che ha saputo imprimere un vero cambiamento nella storia della Chiesa Cattolica, sarà visitabile sino al prossimo primo maggio qui, nella Chiesa di San Rocco da Cereale, su iniziativa del Vescovo della Diocese, Monsignore Antonino Raspanti, in collaborazione con la Fondazione Taormina Arte. Una ventina ai pannelli esplicativi che ricostruiscono i momenti salienti del lungo papato, dalla proclamazione a Soglio Pontificio, all'attentato del terrorista turco Aleag Cha, all'incontro con Madre Teresa di Calcutta e Padre Pio, luce nel cammino terreno della cristianità, entrambi santificati. Alla visita in Sicilia, quando espresse parole durissime contro la mafia, invitando i mafiosi a convertirsi. Poi i giovani, con i quali aveva costruito un intenso e reciproco rapporto, promuovendo incontri e riflessioni sul ruolo delle nuove generazioni, eredi del pianeta, fautore del bene contro il male, che Papa Giovanni Paolo II contrastava con naturalezza e determinazione, marcando una decisa svolta alla caduta del muro di Berlino e un'argine alle oligarchie, specie quelle comuniste. A 18 anni dalla morte, il 2 aprile del 2005, la mostra allestita nella chiesa di San Rocco rappresenta un sincero omaggio all'opera pastorale dell'amato Papa, che nel suo pellegrinare seppe parlare a cuore dei popoli che incontrò, a prescindere dalla professione di fede. La Pasqua è festa di resurrezione e riflessione. La visita alla mostra dedicata a San Giovanni Paolo II, 264 Papa, dalla chiesa cattolica, restituisce ai fedeli ricordo e sentimento genuino. E proprio questo giorno, il 2 aprile, è stata inaugurata questa mostra che vuole raffigurare quelli che sono tutti i momenti della vita di Giovanni Paolo II. Come già ha detto lei, benissimo, questa mostra è stata voluta fortemente dalla Diocese di Acereale, con a capo il nostro Vescovo Monsignor Antonino Raspanti, in collaborazione con la Fondazione Taormina Arte. È una mostra itinerante che si presenta con dei diversi pannelli. La scelta di Giovanni Paolo, la scelta di Giovanni Paolo perché è colui che per 27 anni ha governato la chiesa. Lo ricordiamo tutti come, o meglio chi è un po' più avanti anche negli anni di me, come quel 16 ottobre del 1978, dalla sua elezione, affacciandosi alla loggia della Basilica di San Pietro, ha conquistato il mondo. Questi pannelli vogliono raffigurare proprio la sua vita, Giovanni Paolo come il grande apostolo delle genti, come il messaggero di pace, come colui che è chiamato a portare il perdono, ricordiamo proprio anche l'evento dell'attentato del 1981. Tutto questo ci porta anche a un cammino di santità che insieme con Giovanni Paolo la chiesa ha fatto. Quindi ecco come sacerdote, in collaborazione proprio con la diocesi, invitiamo tutti a visitare questa mostra proprio per scoprire ancora di più quella che è l'essenza di Giovanni Paolo, proprio in questo periodo pasquale.